Benvenuti amici, sono Luca. Avete difficoltà a entrare nella vostra vasca da bagno? Per questo un momento di relax si trasforma in preoccupazione? Sicur Bagno ha la soluzione per voi. Da 15 anni Sicur Bagno si occupa di trasformare il vostro sogno in realtà. Da oggi entrare in una vasca da bagno sarà semplice e sicuro. Pensate amici che l'80% degli incidenti domestici avviene in bagno ed è per questo che è arrivato il momento di chiamare subito il numero verde 800 148 763. Chiamate per ricevere la visita gratuita di un nostro consulente che vi saprà consigliare in base alle vostre esigenze. E adesso Mariana vi introdurrà nel mondo di Sicur Bagno. Grazie Luca. Oggi sono qui per presentarvi alcuni modelli di vasche con sportello ideate e progettate per chi ha difficoltà motorea. Abbiamo qui la vasca facile pensata per facilitare l'accesso diretto dalla carrozzina alla vasca interamente realizzata in vetro resina con la struttura in acciaio inox e fondo antiscivolo. I nostri prodotti hanno diritto a contributi e detrazioni che possono coprire fino al 100% della spesa. Sicur Bagno non pensa solo alla vostra sicurezza ma anche all'estetica del vostro bagno. Un esempio è la vasca Italia rivestita da pannelli che richiamano l'effetto marmorizzato del vostro bagno. L'installazione della vasca Sicur Bagno è gratuita e veloce. In mezza giornata il vostro bagno diventerà sicuro e piacevole. Grazie Marianna. Avete visto amici, Sicur Bagno vi offre una ampia varietà di modelli e pensate inoltre che garantisce a vita tutti i suoi prodotti. Non è un caso che è da 15 anni l'azienda leader del settore delle vasche con sportello e motorizzate. Amici, consulenza gratuita, detrazione fiscale, materiali di pregio, installazione rapida, qualità e prezzo concorrenziale. Tutto questo è Sicur Bagno. Cosa volete di più? Non aspettate. Chiamate subito il numero verde 800 148 763. Sicur Bagno è sinonimo da sempre di sicurezza, affidabilità e garanzia. Sicur Bagno, il tuo sogno che diventa realtà.